Musica Dopo l'unanimità della Giunta, voto unanime anche da parte del Consiglio per abrogare l'emendamento in materia di depurazione industriale introdotto il 26 maggio 2020. L'emendamento che era al centro del contenzioso con il Governo e che nel frattempo non aveva avuto effetti pratici era tornato alla ribalta per l'inchiesta Cheo sullo smaltimento illecito dei fanghi conciari. Quando mi sono reso conto che saremmo andati alla Corte Costituzionale per questa decisione, per questo conflitto di opinioni interpretative il 7 di luglio ho detto chiudiamo tagliando la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discorso. Questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara, molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori e al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità e quindi ritengo di aver operato per il meglio nell'immagine che a questo punto la Regione Toscana può avere anche nei confronti di quello che è il profilo interpretativo in questa materia così delicata ma su cui dobbiamo essere così rigorosi come è la tutela dell'ambiente. Senza l'inchiesta l'emendamento sarebbe stato superato ugualmente? Questo non lo so proprio. Sicuramente ci saremmo posto il problema, nel senso che il vero elemento di riflessione qui è il 7 di luglio quando avremmo avuto di fronte la seduta della Corte Costituzionale. Noi votiamo in modo favorevole a questa PDL perché non c'è dubbio che dal punto di vista formale vada corretto un gravissimo errore voluto politicamente dal PD all'interno di quella legge. Il dato politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora all'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo rimaniamo basiti dall'assenza per ben due giorni del consigliere Pieroni che continua a non metterci la faccia su un problema che lui come primo firmatario ha provocato. Abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini ma che sono probabilmente per finalità personali politiche che noi riteniamo inaccettabili. Questa legge poteva essere portata all'inizio della legislatura perché che l'emendamento non era legittimo e che quella legge è stata impugnata per quell'emendamento si sapeva fin dall'estate scorsa. Quell'inchiesta vede coinvolti anche alcuni terreni nella inversiglia a Massarosa. C'è la preoccupazione? L'ARPAT sta facendo quello che deve fare? Le pressioni le stiamo facendo sia come amministrazione comunale che tramite me in Regione che ovviamente sento e parlo costantemente con l'assessore Monni. Speriamo che ARPAT si svegli e che i controlli che deve fare, parte li hanno già fatti i proprietari dei terreni, vengano fatti come riprova di quelli fatti dai proprietari, il prima possibile per cercare di fugare ogni dubbio e sperando che sia tutto a posto per procedere anche per lo sviluppo di quell'area. Questo atto che abbiamo compiuto unanimemente oggi, da un punto di vista amministrativo, dovrebbe mettere al riparo la normativa esistente, che è la normativa che ha consentito a partire dagli accordi del 2004, fatti tra la Regione, le istituzioni locali, il Ministero dell'Ambiente e le aziende, in questo caso il distretto conciario, di poter dare vita con investimenti pubblici e privati ad impianti di questo tipo, che valgono per quel distretto come possono valere anche per altri distretti industriali. Vorrei che fosse emerso chiaro che non è un emendamento che ha niente a che fare con il CHEU, con eventuali collusioni con la malavita o il malaffare, ma che trattava e tratta degli impianti, dei liquami del distretto industriale e una parte del distretto civile. Quindi usciamo, a mio avviso, dalle polemiche, perché la polemica politica è legittima, ma alla fine quello che non dobbiamo rischiare è che la polemica politica criminalizzi un intero settore o un intero distretto con ripercussioni negative per quanto riguarda l'economia e per quanto riguarda l'occupazione. L'emendamento dettava alcune regole che non sono state applicate, cosa molto diversa, invece l'inchiesta che in questo momento è in corso per quanto riguarda il CHEU, che è partito, guarda caso, da una segnalazione di ARPAT che è un organo regionale. Quindi non è che la regione ha fatto qualcosa, la regione come ente ha fatto qualcosa. Noi come consiglieri regionali eletti abbiamo l'obbligo, secondo me, anche morale di mettere gli enti strumentali della regione attraverso le norme o i dipendenti della regione in condizioni di dar meno adito possibile a che ci vengano letture interpretative che possono aprire le maglie. Questo è il compito che noi abbiamo. Il mio e quello dei miei colleghi, secondo me, non è di giudicare e di entrare nel merito dell'inchiesta che avrà il suo svolgimento e per la quale saremo naturalmente molto attenti. Con la nuova legge abbiamo cancellato l'emendamento, quindi siamo ritornati al testo originario. Sono stati chiariti alcuni aspetti che davano possibilità di interpretazione. Dal punto di vista pratico, nulla, nel senso che quanto previsto l'emendamento non è stato mai applicato dai tecnici, quindi non cambia dal punto di vista del regime autorizzatorio che è sempre stato richiesto alle aziende, che continuerà a essere richiesto e nei prossimi anni, 2023, comunque finirà questo sistema delle proroghe. Tutti gli impianti, così come adesso, saranno sottoposti ai regimi autorizzatori che di volta in volta sono necessari. La vicenda non è chiusa. Oggi partono i lavori della commissione d'inchiesta, che speriamo faccia luce sui rapporti che ci sono stati, che sono oggetto dell'indagine della direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un sistema, quello dei rifiuti in Toscana, che per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000 e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante e troppe discariche. Questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servizi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi con naturalmente connivenze con la malavita organizzata. E questo non è più tollerabile perché la Toscana è una terra non soltanto di turismo ma anche di crescita e di sviluppo e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno zeppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti. Con questo voto la maggioranza chiude il caso? La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni. Noi abbiamo votato a favore dell'abrogazione di quell'emendamento perché abbiamo scoperto con vari accessi agli atti che non era soltanto un problema di competenza con lo Stato ma quell'emendamento era contrario alle norme costituzionali e alle norme comunitarie, cioè era una vera e propria violazione di legge. Quindi non si capisce come mai oltre un anno quella norma sia rimasta nel nostro ordinamento creando confusione, creando aspettative che non potevano essere seguite e naturalmente mettendo sotto i riflettori, cosa che continueremo ad esaminare, il sistema di smaltimento dei reflui in Toscana che rappresenta un unicum, un sistema del tutto particolare rispetto alla normativa nazionale ed europea. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico, locale e regionale del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza in termini però un po' più enfatici e soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione ma in altra sede che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma. Ci sono delle giustificazioni da dare a Toscani proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici e non parlo soltanto di questo caso, questo purtroppo è quello che appare alle persone ma soprattutto del perché si sia andato in questa direzione e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato. In tema di lavoro in Toscana arriva la prima legge a tutela dei riders sicurezza, formazione, controllo e rappresentanza sindacale così la regione apre i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali la legge viene approvata a maggioranza con la sola stenzione del gruppo della Lega Dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non ci deve essere un algoritmo come spesso viene rappresentato ma c'è una persona, c'è un lavoratore e come tale deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi a partire da quelli basilari come penso la salute e la sicurezza sul lavoro io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata, che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o sole ora su questo lavoreremo insieme alla Giunta per dare attuazione è un possaggio importante perché comunque si va a mettere delle norme e soprattutto a costruire delle garanzie e delle tutele nei confronti di una platea di lavoratori, molto spesso giovani che sono altrimenti senza nessun tipo di garanzia e che si muovono in un ambito assolutamente deregolamentato è opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano deve essere colta in termini molto positivi è una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale La normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro individui come si fa a prevenirli quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori qual è il livello di formazione che deve essere fatto qual è il livello di tutela sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale ma troppo spesso non applicati e prevediamo poi che il sistema di prevenzione delle aziende sanitarie facciano controlli ovviamente in un'ottica essenzialmente di prevenzione del rischio ma anche poi controlli sul preciso rispetto di queste normative Le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte il governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogenità ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso da questo punto di vista con la ministra Annunzia Catalfo sono stati gettati i semi per molti di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori sta a questo governo adesso riuscire a portarli avanti Io credo che ci sia un ennesima distacco tra le cose che facciamo nel palazzo e le cose che facciamo invece nella vita normale I componenti del Consiglio regionale incontreranno secondo modalità concordate direttamente con le dirigenti scolastiche gli alunni, gli studenti delle scuole e in quella sede ci sarà un confronto libero senza particolari protocolli o formalità sui principali assi portanti della nostra Carta Costituzionale In vista della Festa della Repubblica iniziativa dell'Ufficio di Presidenza è rivolta ai maturandi nei prossimi giorni infatti i consiglieri regionali consegneranno personalmente in tutti gli istituti il nuovo libro della Costituzione e lo Statuto della Toscana Proprio per festeggiare la Festa della Repubblica e per mandare un messaggio il messaggio che noi mettiamo a disposizione quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica inizierà una fase nuova della propria vita possa portare sempre con sé Insieme alla Festa del 2 Giugno quest'anno anche 75 anni dalle prime elezioni con diritto di voto alle donne Appuntamento principale viene fissato per la data del 28 maggio 2021 al liceo statale Giuseppe Carducci a Pisa Insieme alla giudice della Corte Costituzionale alla professoressa Navarretta che ringrazio per la sua disponibilità ma sono davvero felice di poter dire che quasi tutti i consiglieri regionali hanno dato la propria disponibilità per andare in una classe, in una scuola della Toscana a distribuire quello che è il nostro pensiero il nostro dono ai ragazzi che si stanno maturando Quasi 100 scuole della Toscana parteciperanno in streaming all'evento e questo è un bel modo con cui noi come Consiglio regionale e come istituzione vogliamo ancora con più forza raccontare, rappresentare quello che è stato la fatica che c'è stato per arrivare alla nostra Costituzione al nostro Statuto Comunicato Grazie a tutti! Grazie a tutti! Alla prossima! Grazie a tutti.